Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con voi La Linea per approfondire quelli che sono i temi del giorno partiamo subito con un collegamento in diretta con la nostra Paola Trepo perché è stata presentata poco fa l'indagine di Confcommercio Friuli Venezia Giulia Forman Research oltre all'aggiornamento trimestrale c'è stato anche un focus sul commercio di montagna e scontrino elettronico La nostra Paola si trova in Camera di Commercio Udine a Terralinea Buongiorno Alexis, buongiorno ai nostri telespettatori siamo in Camera di Commercio e in corso ancora la conferenza stampa che presenta i dati relativi all'ultimo decennio e riferiti comunque agli ultimi quattro mesi del 2019 con noi Pierluigi Ascani, direttore scientifico di Forman Research Qual è il quadro del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda il terziario? Il terziario è un quadro di sostanziale stabilità agli ultimi mesi del 2019 rispetto a quelli sostanzialmente dell'estate segnalano su indicazione degli imprenditori del commercio, dei servizi del turismo una sostanziale stabilità e dal punto di vista congiunturale e dal punto di vista del clima di fiducia anche la previsione a tre mesi, quindi al mese di marzo, di stabilità rispetto alla chiusura dell'anno Il dato naturalmente si differenzia a seconda del settore di attività economica e poi abbiamo visto un'analisi che abbiamo effettuato nel corso dell'ultimo trimestre a seconda della residenza nei comuni montani o comuni non montani delle imprese del terziario Va molto bene il turismo, vanno bene le imprese e i servizi, vanno molto meno bene che denunciano più di una difficoltà le imprese del commercio al dettaglio sia alimentare che non alimentare I comuni della montagna hanno delle oggettive difficoltà soprattutto le imprese del commercio al dettaglio dei comuni della montagna sono in difficoltà una sorta di combinato disposto che poi trasforma spesso queste difficoltà da difficoltà economiche in difficoltà di tipo sociale perché quando in un paese magari 3.000-5.000 anime chiudono i due o tre negozi che vi operavano in qualche modo poi questo si trasforma in difficoltà oggettive per tutte le famiglie che in quel paese vivono e lo animano Il terziario negli ultimi dieci anni, anche questa è un'analisi che abbiamo aggiunto nell'ultimo trimestre dell'anno, è riuscito in qualche modo a dare quell'occupazione e a riprodurre poi quel reddito in termini di valore per tutta la regione che invece era stato perso o è stato perso comunque da altri settori di attività economica pensiamo alle costruzioni e pensiamo alle industrie in dieci anni l'industria, le imprese manifattoriali hanno perso in questa regione oltre 16.000 occupati ma 12.000 occupati dipendenti a tempo indeterminato quindi in pianta stabile sono stati assunti dalle imprese del terziario un po' meno ma certamente il terziario è riuscito in qualche modo a fare a riassorbire le difficoltà che sono state prodotte in altri ambiti il commercio al dettaglio ci è riuscito molto meno, da solo è riuscito a perdere 5.000 addetti che però sono stati interamente guadagnati dal turismo per quanto riguarda lo scontrino elettronico se ne hai parlato molto in questo periodo specialmente anche proprio per le attività della montagna allora in realtà il nuovo adempimento non ha provocato reali difficoltà alle imprese del terziario quindi sia per quanto riguarda le imprese della pianura o delle grandi città sia per quelle della montagna oltre il 56% si è dotato di un nuovo registratore di cassa credo fino al 20 invece adeguato quello che già c'era moltissime imprese hanno utilizzato il contributo messo a disposizione nella regione l'agevolazione basata sul credito d'imposta per adeguarsi tipicamente le imprese che denunciano in qualche modo delle difficoltà a seguito del nuovo adempimento la trasmissione telematica dei corrispettivi sono le imprese del commercio al dettaglio di dimensioni più piccole quelle che però in realtà già erano e sono in difficoltà ma per altre ragioni sostanzialmente lo scontrino fiscale c'era prima continua ad esserci adesso e diciamo le imprese hanno dovuto affrontare un costo per adeguarsi alla nuova normativa ma in realtà non è stato così tremendo ecco va detto che ConfCommercio ha proposto alla regione Frulli Venezia Giulia di dare degli incentivi di aiutare le imprese che le attività diciamo cosiddette di prossimità per dare la possibilità appunto ai giovani anche di poter avviare o di poter continuare o rilevare un'attività in montagna dove appunto la funzione è quella sociale ecco come vi dicevo in corso adesso la conferenza stampa è arrivato anche l'assessore regionale Bini quindi noi rientriamo a Lexis e ti restituiamo la linea qui dalla Camera di Commercio di Udine grazie alla nostra Paola Treppo ed ora andiamo a Pordenone dove è stata presentata oggi la ventisiesima edizione di Dedica Festival la rassegna organizzata dall'associazione Tesis il protagonista di quest'anno nella settimana dal 7 al 14 marzo sarà Hisham Matar scrittore di origine libiche con il quale la città si confronterà sui testi e i temi attuali della geopolitica Dedica Festival l'edizione 26 a organizzarla come sempre l'associazione Tesis siamo con il presidente Claudio Cataruzza quest'anno dal 7 al 14 marzo insomma il personaggio Hisham Matar allora ci facciamo raccontare intanto un po' di questo personaggio perché l'avete scelto Hisham Matar uno scrittore di origine libica nasce nel 1970 a New York ma la sua storia diciamo intellettuale culturale è strettamente collegata a quella del suo padre che era un diplomatico da prima e poi un oppositore del regime di Gheddafi ed è nel 1990 viene rapito dai servizi segreti egiziani e ceduto a quelli libici e dopo qualche anno sparirà nel nulla quindi l'elemento principale è questa assenza questa sparizione questo tentativo del figlio cioè lo scrittore Hisham Matar di riandare sulle orme del padre e questo lo porterà a scrivere anche un memoir estremamente fortunato che è il ritorno col quale ha vinto il premio Pulitzer ecco noi avremo qui ospite lui e saremo anche un po' dentro quello che è l'attualità perché approfondiremo tutta una serie di aspetti riguarda la situazione attuale in Libia sia da un punto di vista geopolitico che di testimonianza politico sociale si parte il 7 marzo poi fino al 14 tanti eventi tanti appuntamenti intanto sono già iniziate le anteprime sul territorio si sono 16 appuntamenti di anteprime coinvolgono un po' il territorio ed è una da qualche anno questa rappresenta una novità per la nostra manifestazione che ha lo scopo un po' di preparare il pubblico anche di creare interesse sulla manifestazione quindi ci sono tutta una serie di tematiche che vengono affrontate sia che riguardano l'opera letteraria dello scrittore sia che riguardano elementi culturali degli ambiti di provenienza di cui lo scrittore ecco quindi finora hanno avuto un ottimo successo e speriamo che nel prosieguo termineranno a fine mese e diciamo ci sia ancora tanta soddisfazione e poi in quella settimana invece si entra nel vivo proprio con l'autore tanti appuntamenti insomma con lui in modo particolare dai concerti al teatro eccetera ci sono 14 appuntamenti sia teatro sia incontri conferenze sia un po' diciamo per tutti i gusti per i ragazzi e poi a fianco a quelle che sono le giornate diciamo dedicate a un pubblico indifferenziato c'è un progetto scuola che va in parallelo e che coinvolge gli alunni di tutte le scuole di ogni ordine grado quindi andiamo dalla scuola primaria sino all'università e poi il sigillo della città come è tipico ai protagonisti di Dedica nella giornata di giovedì certamente qui siamo grati al comune di Pordenone che riconosce diciamo annualmente agli rappresentanti diciamo i dedicatari il sigillo della città a sottolineatura dell'importanza dei nomi che portiamo a Pordenone e soprattutto delle tematiche che loro si portano dietro Dedica è uno dei punti centrali della cultura a Pordenone nel Pordenonese ma anche in tutta la regione mi piacerebbe che ci fossero delle realtà così importanti anche in altri comuni capoluogo Pordenone ha tanto Pordenone però è generosa perché il suo tanto cerca anche di distribuirlo aiutando altre realtà spero che a furia di seminare nascano dei frutti importanti come importante Dedica e altre manifestazioni pordenonesi Matar è un personaggio che si intreccia anche per il periodo con vicende che hanno segnato questa regione anche qui ci sono stati tanti bambini e tanti giovani che non hanno saputo che fine avesse fatto il loro padre e talvolta anche che fine avesse fatto la loro madre perché non era infrequente che i genitori fossero trucidati insieme e nello stesso momento il suo racconto di dolore però c'è anche tanta speranza in quello che dice e in quello che fa il fatto che continui a battersi per arrivare alla verità vuol dire che lui si augura che ci sia un giudice a Berlino anche un legame se vogliamo con l'attualità senza altro e con quanto sta accadendo in Egitto abbiamo provato anche sulla nostra pelle insomma la vicenda di Giulio Reggeni e appunto anche Shammatar ha avuto il padre che è stato rapito e poi ucciso sembra che sia stato rapito in Egitto ma che sia stato il regime di Gheddafi poi ognuno dà versioni diverse evidentemente e sì Reggeni resta un caso irrisolto non vorrei che diventasse uno dei tantissimi casi irrisolti della nostra Repubblica spero però anch'io come Matare come i genitori di Giulio Reggeni che andando avanti a chiedere verità prima o poi ci si arrivi se ci si spegne anche a fiammella della speranza siamo finiti Sarà annunciata ufficialmente domani con una comunicazione della giuria preseduta da Angela Terzani la cinquina finalista del premio letterario internazionale Tiziano Terzani giunto alla sedicesima edizione il vincitore sarà protagonista sabato 23 maggio al Teatro Nuovo Giovanni Daudine della serata evento per la consegna del premio da sempre appuntamento centrale del festival vicino a lontano in programma Udine dal 21 al 24 maggio piccola pausa per la pubblicità poi ritorneremo in diretta da voi la linea centrale unica per la committenza patto per l'autonomia e partito democratico segnalano nuove criticità questa volta per quanto riguarda il trasporto scolastico da Udine parte la richiesta di dimissioni dell'assessore regionale Callari Ancora problemi per la centrale unica di committenza un altro settore che è stato colpito Sì siamo davanti all'ennesimo episodio di cattiva gestione a mio avviso della tema della gestione degli appalti e dei servizi per gli enti locali perché c'è a rischio molto consistente che il trasporto scolastico che quindi è un servizio importantissimo per le famiglie per i cittadini della regione anche molto delicato venga affidato ad aziende che nulla hanno a che fare con il nostro territorio ci sono 48 comuni coinvolti di tutta la regione e hanno partecipato alla gara di fatto due grandi aziende di fuori regione una della provincia di Bari e una della provincia di Lecce un solo lotto su 12 ha visto la partecipazione di un'azienda locale e questo significa che il trasporto scolastico di fatto sta andando nelle mani di aziende che arrivano da fuori questo si aggiunge agli sfalci dei comuni si aggiunge alle manutazioni degli edifici pubblici si aggiunge alla gestione dei cimiteri e quindi siamo davanti a una situazione per cui quella stessa lega che una volta diceva o dice ancora prima i friulani di fatto sta portando fuori regione tutti i servizi delicati che hanno a che fare con il nostro territorio questi comuni interessati da questa problematica sono comuni piccoli della provincia comuni di montagna già svantaggiati oppure riguarda un po' tutte le municipalità riguarda un po' tutte le municipalità c'era stata una richiesta ecco una prima indagine da parte della regione che ha chiesto ai comuni se erano interessati appunto a partecipare a questo tipo di percorso naturalmente c'è stata un'adesione dal punto di vista della possibilità ecco che venisse sgravato anche il lavoro degli uffici tecnici e dei comuni e quindi si riuscisse a ottimizzare il lavoro degli affidamenti purtroppo ecco le modalità con cui è stata avviata e gestita la gara hanno fatto sì che i punti di vista anche delle aziende locali degli operatori locali non fossero tenuti in considerazione ecco questo davvero è un problema per le famiglie per gli enti locali e anche per le nostre aziende e per i loro lavoratori che rischiano rimanere a piedi cosa si può fare? ma noi lo stiamo dicendo da tempo l'assessore deve prendere in mano la situazione in modo definitivo non possiamo permettere che questo continuo stilicidio ecco di aziende nostre continui e quindi l'assessore deve mettere in moto un percorso per far sì che le istanze dei comuni e delle aziende locali venga atteso tenuto in considerazione diversamente è meglio se si dimette e quindi noi davanti all'ennesimo caso di mala gestione diciamo l'assessore Callari che ha provato da poco anche semplifica FWG che in realtà è una norma che dice che bisogna fare un'altra norma per semplificare che semplifichi la situazione e dire di missioni forse qualcuno potrebbe gestire meglio la situazione e anche il partito democratico in campo per questa problematica legata alla centrale unica di committenza sì noi riteniamo e denunciamo una totale disattenzione da parte della politica in particolare dell'assessorato in particolare della lega rispetto a quello che sta avvenendo nel nostro territorio qui il tema non è solo la centrale unica di committenza è gli indirizzi che la politica dovrebbe dare stiamo parlando di un bando che vale circa 39 milioni di euro che rischiano di andare a imprese che non sono del nostro territorio che andranno sicuramente probabilmente a far decadere anche la qualità dei servizi o a diretto rischio dei nostri bambini io penso che qui ci volesse un'attenzione particolare anche la necessità di confrontarsi con le aziende del territorio per mantenere un servizio di qualità in Friuli Venezia Giulia non è stato fatto e io penso che questo sia una disattenzione prima di tutto della politica i bandi si iscrivono tecnicamente ma gli indirizzi deve dargli la politica e noi abbiamo notato una totale assenza dell'assessore Caleri e di questa maggioranza rispetto alle esigenze delle nostre imprese del territorio e in questo caso anche della sicurezza dei bambini che subiranno un brusco cambiamento nel trasporto scolastico col bando riguarda il trasporto per il prossimo anno sì il bando riguarda il trasporto per il prossimo anno non è stato ancora giudicato io spero che ci siano ancora margini di discussione e di miglioramento ma quello che stiamo vedendo ci preoccupa davvero molto nel senso che c'è una totale assenza di indirizzo il fatto che nessuna azienda regionale tranne che per un piccolo lotto abbia partecipato ci segnala sostanzialmente la totale incapacità di mettersi in relazione con le imprese del territorio e ragionare insieme su quale può essere l'offerta migliore e il servizio migliore da dare ai territori aggiornamenti sul tema coronavirus non perderanno l'anno scolastico gli studenti italiani che si trovavano in Cina per scambi culturali e sono rientrati in patria in seguito all'emergenza lo prevede un'ordinanza di protezione civile firmata dal commissario straordinario Angelo Borrelli il ministero dell'istruzione indica il provvedimento adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la validità dell'anno scolastico 2019-2020 degli studenti di ogni ordine e grado che di ritorno dalle aree a rischio di contagio da agenti virali trasmissibili siano sottoposti a misure di sorveglianza da parte del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale di riferimento ovvero si sottopongano autonomamente ad una quarantena volontaria nel proprio domicilio secondo le stime sono 141 gli studenti interessati dell'ordinanza si tratta di giovani che si trovano in Cina per scambi culturali tra loro anche Nicolò il 17enne di grado rientrato sabato scorso da UAM dopo essere rimasto bloccato per due volte a causa della febbre ed ora ci colleghiamo con il nostro Enzo Cataruzzi che si trova già pronto in studio per alcune anticipazioni sulla trasmissione che andrà in onda subito dopo la pubblicità Il Punto Enzo a te la linea Ciao Alexis benvenuti a tutti oggi ospite un ospite nazionale Emanuela Dicenta benvenuta Emanuela lei è venuta proprio ciao a tutti era in quel di Salerno ma è venuta perché insomma l'impegno ce l'aveva ecco oggi parleremo di sport parleremo anche della nostra regione e parleremo anche del suo libro un tuo libro che da poco mi pare è uscito nelle librerie un pezzo di storia un pezzo di futuro un pezzo di quel che si è fatto sempre però mi piace concludere dicendo sempre con un cuore che ha una radice profonda dove sei nato dove ti arrabbi dove lavori dove soffri e dove vivi il Friuli Venezia Giulia ecco quindi sentiremo da una progresso internazionale che cosa pensa del Friuli ma che cosa pensa anche della nostra nazione e soprattutto dello sport che viene praticato in Italia a te molto bene grazie Enzo Catarussi da non perdere la puntata il punto subito dopo la pubblicità ora vi lasciamo agli aggiornamenti meteo di Marco Virgilio grazie per l'attenzione e buona giornata buongiorno buon inizio di settimana a tutti allora andiamo a vederci subito un po' come sarà il tempo dei prossimi giorni cominciando dall'analisi della situazione sinottica la carta in quota ci mostra l'alta pressione è stesa dall'oceano atlantico fino all'est Europa comprende anche il nord Italia che tuttavia è sfiorato dal flusso occidentale atlantico vediamo eventi molto forti tra Francia e Germania le infiltrazioni umide porteranno a nuvolosità e anche a qualche debole pioggia questo già oggi vediamo il cielo tra molto nuvoloso e coperto qualche apertura in più sulle alpi più interne per il resto la possibilità di qualche debole pioggia soprattutto sulle zone prealpine sulla fascia orientale alta della pianura ci saranno anche le foschie le nebbie temperature massime intorno agli 11-12 gradi nella giornata di domani il tempo tenderà gradualmente a migliorare sulle zone alpine mentre invece rimarrà nuvoloso anche molto nuvoloso tra la fascia prealpina e la costa dove saranno possibili anche delle deboli precipitazioni ancora qualche foschia qualche locale nebbia venti che tendono a divenire orientali temperature massime in aumento fino a 14 gradi e siamo agli spaghetti che ci mostrano evidente la tendenza della temperatura a diminuire nei prossimi giorni e portarsi sui valori medi ma non è finita qua attenzione con il clima mite ne riparleremo verso la fine settimana perché è prevista una nuova gobba vedete come si alza rapidamente la temperatura e questo porterà ai soliti fenomeni di inversione termica mercoledì intanto sono previste ancora delle nubi soprattutto sulle zone alpine la possibilità anche di qualche debole sporadica nevicata intorno ai 1000-1200 metri un po' meglio andrà in pianura temperature che risalgono intorno ai 14 gradi però lo zero termico vedete ormai è poco sopra i 1000 metri il tempo poi sarà sereno poco nuvoloso ma da venerdì cominciamo a osservare la quota dello zero termico che ricomincia a salire per portarsi addirittura a 3000 metri nella giornata di sabato saranno gli effetti di quella rimonta anticiclonica di cui abbiamo accennato prima commentando gli spaghetti vedete che pur con qualche lieve gelata notturna in pianura le temperature torneranno a riportarsi intorno ai 13-14 gradi per questo aggiornamento ho terminato vi saluto appuntamento più tardi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti